Dalle 12.25 fino alle 15.15 di oggi bloccato il traffico ferroviario tra Marotta e Senigallia lungo la linea adriatica. A causare questo stop alla circolazione un incendio di sterpaglie divampato in diversi punti per un tratto di oltre un chilometro poco distante dai binari ferroviari. Sul posto sono arrivati subiti i vigili del fuoco, una squadra e tre mezzi da Senigallia, due mezzi da Pesaro, una campagnola ed un autobotte e anche una squadra da Fano con due mezzi. Oltre ai vigili del fuoco sul posto anche polizia, carabinieri, polizia locale, polfer e i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. La chiusura totale del traffico si resa necessaria fino a che le fiamme non sono state domate con vogli fermi nel tratto Ancona-Rimini con l'attivazione del servizio sostitutivo con autobus. Nessun convoglio però fermo lungo la linea ferroviaria ma solo nelle stazioni come il Lecce-Venezia con 350 passeggeri a bordo, fermo a Senigallia. L'Intercity-Lecce-Bologna con 152 passeggeri, anch'esso fermo a Senigallia. Il Frecciabianca-Torino-Lecce con 354 passeggeri, fermo a Fano delle ore 13.10 e l'Intercity-Bologna-Bari con 128 passeggeri e fermo a Pesaro dalle 13.42 come anche i 377 passeggeri a bordo del Frecciabianca-Milano-Taranto, invece fermi a Rimini dalle ore 14.00. Per tutti è stata garantita informazione e anche assistenza a bordo. Alle 14.24 è stato riattivato il pari direzione Bologna, è attivata la circolazione alternata su un binario in esercizio, però i ralentamenti e i ritardi sono andati dai 40 minuti fino all'ora e mezza e hanno comportato così la cancellazione di quattro regionali. Alle 15.15 poi la circolazione è ripresa normalmente, mentre una squadra dei vigi del fuoco di Pesaro è rimasta per il raffreddamento e la bonifica del posto. Rientrata poi definitivamente alle 16.45 una volta che la situazione sia del tutto normalizzata.